Buonasera, vorrei vedere un film in streaming. Ah certo, siamo qui apposta. Sì, sono venuto apposta. Vuole rivedere Shrek? No, Shrek no, perché non ce l'ho visto, vorrei vedere un altro film. E quanto le piace Shrek? Rettivamente piace. Lei risulta al 100% compatibile con Shrek, come è successo? Insomma, vuol dire un film che mi piace veramente tantissimo, però vorrei vedere un'altra cosa. Ah, vuole cambiare? Eh sì, mi piacerebbe. Shrek 2? No, Shrek 2, no, vorrei proprio cambiare genere, capito? Lei risulta compatibile al 93% con Twilight. Twilight, come mai? Perché lei ha visto la prima stagione di The Good Things. Che vuole essere? Chi si ricorda? Ecco, nella quarta puntata, sullo sfondo c'è uno schermo, su quello schermo si intravede la sagoma di un vampiro. Ma niente di meno, io ti ho fatto tutto il suo collegamento. No, non mi piace il tuo Twilight, ti voglio vedere un'altra cosa. Allora Bridget Jones. Ma perché proprio Bridget Jones? Perché lei ieri sera ha visto Notting Hill. Ma io ieri sera ho messo Notting Hill perché stavo con la mia fidanzata, ma non è lei che l'ho visto. Ma lei, due settimane, ha visto film come Sex and the Skies. Ma sono film che mi sono addormentato, non è che mi metto veramente... Senti, fate una cosa, mi dite Shrek. No, Shrek uno. Sei in possesso film, ma c'ho guardato, non voglio mai andare avanti nella mia vita, non voglio progredire. Ha già stato tutta la vita da me invecchiare, ha già diventato un'orca merda, ha già diventato Shrek. Perfetto, riproduco Shrek. Grazie! Per me, c'è la miseria.